FILATURA DI POLLONE FILATURA DI POLLONE FILATURA DI POLLONE FILATURA DI POLLONE Nel 1998 il gruppo ha realizzato oltre 52 miliardi di fatturato con un utile di 2,6 miliardi e la quotazione in borsa rappresenta un ulteriore importante passo avanti sulla strada della crescita e dello sviluppo. La produzione del gruppo è diversificata nei segmenti dei filati cardati classici, filati open-end, filati cardi d'ultrafine e filati pettinati. Il gruppo Filatura di POLLONE vanta un parco di oltre 500 clienti nei diversi segmenti di mercato della maglieria, della tessitura per abbigliamento, della tessitura per arredamento e dei calzifici. La dettagliata conoscenza delle materie prime e dei macchinari impiegati nel settore, insieme alla scarsa dipendenza dei terzisti e all'informatizzazione del processo produttivo, consente infatti di offrire soluzioni specifiche e personalizzate adeguate ad ogni tipo di esigenza del cliente. Presente in tutti i principali mercati mondiali, la duplice formula della rete commerciale di agenti, affiancata alle vendite direzionali, consente a Filatura di POLLONE di avere un'estesa copertura dei mercati, mantenendo sempre un rapporto diretto e di partnership con i clienti. I tre siti produttivi del gruppo sono dotati di tutte le più avanzate tecnologie del settore. In particolare, nella divisione Filati Open End, sono attivi filatoi completamente robotizzati, mentre nella divisione Filati Cadid Ultrafine vengono impiegati macchinari con tecnologie esclusive, sviluppate direttamente nelle officine interne all'azienda. Razionalità nell'impiego di risorse energetiche, basso impatto ambientale e accurati controlli di qualità, completano la descrizione dei processi produttivi. Elevata flessibilità produttiva, ampia gamma di prodotti offerti, personalizzazione del servizio al cliente, capillare rete commerciale, dislocazione produttiva internazionale. Sono questi i principali elementi che delineano la filosofia di business del gruppo Filatura di POLLONE e che costituiscono il vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti. Il risultato più importante dell'innovativa filosofia di business del gruppo sono i filati denominati Cardid Ultrafine, sviluppati in esclusiva da Filatura di POLLONE per rispondere alla richiesta di filati cardati più leggeri e voluminosi da utilizzare per capi di sempre più elevato standard qualitativo. Il Cardid Ultrafine rappresenta per Filatura di POLLONE un vantaggio competitivo di strategica importanza, in quanto sul mercato non esistono altri filati con le stesse caratteristiche. Alla vigilia dei suoi primi 50 anni di storia, con chiari progetti di espansione che vanno dallo sviluppo del Cardid Ultrafine alla penetrazione dei nuovi mercati, fino all'aggregazione di altre realtà del settore, il gruppo Filatura di POLLONE rappresenta una valida opportunità per i partner commerciali, per gli investitori e per l'economia stessa del settore in cui opera. Per 실패 Maybe not from these sources You have poured yours